Ciao, sono Roberto, sono anche io una guida final militare, ho 51 anni, da 30 anni che vivo in Val d'Aosta. Ho avuto la fortuna di vedere il Polo Sud per quattro volte, mi incuriosiva vedere il Polo Nord e spero di vederlo con voi e di stare bene con voi.